Musica 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 Ok, fermiamo il contratto Secondo me posso spararmi da solo Porca Ok, no, non potevo spararmi da solo, vabbè Abbiamo uno su due Uno su due E io sparo Ma porca Allora, partiamo dall'inizio Mi mette i proiettili, mi dice quanti proiettili ci sono in canna Quanti sono con il colpo e quanti a salve Lui li mette nell'ordine che vuole lui E inizio io Ok, quindi posso decidere se spararmi o sparare a lui Se mi sparo da solo, lui salta al turno Quindi posso sparare due volte consecutivamente se mi sparo da solo Ok E io provo a spararti Ah Spara pure lui, no E quindi adesso Quindi adesso io ti sparo Ah Dai, primo round è andato Ok 50 e 50 Ah, praticamente Questo con una sigaretta io mi curo Le sigarette fanno bene alla salute Assolutamente E invece questo Posso tagliare lo shotgun E faccio due di danno invece che uno Lui però ha due manette Allora, secondo me Secondo me Lui adesso Ha messo la prima Wow No Lui adesso ha messo la prima carica secondo me Perché pensa Che mi sparo da solo Ah, godo Me la rischio Me la rischio Me la rischio Me la rischio Vai, vai In faccia In faccia Ah, godo Adesso però lui Mi ammanetta Mi spara due volte Probabilmente Sicura? Si spara da solo Perfetto Ma in teoria dovrebbe saperle Le... Mi ha scritto che le sa lui Quali sono quelle Ok Però adesso lui mi spara E secondo me facci lecca Perché sono 2 e 1 Dai Ma va 50 e 50 Io mi sparerei Quasi quasi mi sparerei di nuovo Allora sì Allora gli do le manette a lui Io mi sparo da solo Oh Io gli sparo da solo Adesso ne sono avanzate 2 Quindi se io ti sparo Questa è una Le manette le perdi? Non le perdi le manette Però con le manette Non puoi neanche curarti volendo E adesso c'è un 50 e 50 Secondo me c'è Secondo me c'è Non c'era Un mare fa male zio Fa male Eh questa me la prendo in faccia Male Adesso siamo due pari Una lente Un coltello Ok Cosa fa la lente? 3 e 2 Va bene Posso controllare E' nero Ok Quindi Io Quindi Una era vuoto Eeeh Io adesso prego Che lui non ne abbia messe due Consecutive Perché le probabilità sono dalla mia Aspetta Giusto? Aspetta Bastardo Mi ammanetta Per spararmi a forza Si recupera una vita Il bastardo Lui ha gli oggetti migliori Non è corretta questa situazione Bullati la vita Già che ci sei No? Io sto pregando Che ci sia una salve Però mi ha ammanettato Il bastardo Adesso si sparava solo Ti prego E' andata male E' andata molto male L'audio è fortissimo Di sto gioco Lo vedi? Tu sei morto Grazie E riproviamo Va bene Mi ha fatto andare in paradiso Va bene E' stato bellissimo E riproviamo Ok Me la rischio Me la rischio Me la rischio Sto godendo Sto godendo Proprio tanto Me la rischio di nuovo Me la rischio Me la rischio Me lo sento Me lo sento che sono morto Allora Io guardo il primo Era nero Era nero Vero Non credito Ho problemi di memoria Probabilmente C'è giunto il più contenuto All'interno Per me Se inizio a svarionare E fare le peggio cose Può diventare Magari il best 2025 Questo gioco qua Secondo me Ha molto potenziale Se ci fossero Più potenziamenti Perché già una cosa Di cui ho avuto paura Nel momento In cui ha pulito il campo Dagli oggetti Che c'erano Dal mio inventario Potrebbe esserci Magari un oggetto Molto bello Che tipo Scambia il suo campo Con il mio Quindi magari lui Consuma quelli a destra Quelli a sinistra E ci switchiamo gli oggetti Quindi devo mettere Determinati oggetti In modo che se me li prende Comunque non resto Senza nulla Ci potrebbe stare Una roba del genere Vedo bene A migliorarsi Questo Questo gioco E io parto Già Bloccando E spero che non abbia messo I due proiettili All'inizio Oh questa partita Devo semplicemente Sparare in avanti E io sparo di nuovo Sono i primi due Io mi sparo da solo Anche se non so Quanti proiettili mancano Ok E però il prossimo Ah sono finiti Perfetto 3-2 3-2 Uuuu Ammanettati Ammanettati Sono che poi si cura Vale 2-2 Io me la rischio 2-2 Oh no Porca di quella Bastardo E niente Non è corretta Non è corretto Il fumo Non è corretto No Non è corretto Rischio troppo Anche lui Ha rischiato troppo Hai visto E però adesso I prossimi Sono vuoti E anche il prossimo È vuoto Non è l'ultima E niente Le ho fallite tutte Ragazzi Le ho fallite tutte E l'ultima È a salve È bello Bello flexare Quando sappiamo Che l'ultima È vuota È vero Bravo Bravo Allora Ho un po' di manette E una birra E una lente Meno male Almeno una lente Ce l'abbiamo Ok 3-2 3-2 Però inizio io Io guardo la prima E la prima È carica Allora L'ho a manetto Sparo doppio Due a manettata Non può fare nulla Eh io sparo doppio di nuovo Porca di quella miseria Quindi siamo 2-1 Mi falcia due vite Mi falcia due vite Sicuro Sapevo che mi falciavo I due vite Bastard Mi ha scammato Mi ha scammato fortissimo Eh però anche lui È messo male Perché io Se gli sparo due volte Ho vinto No Dalle sigarette no Donna 4-2 4-2 Sto godendo Ma io ti ha manetto Ragazzi 4-2 Dai 4-2 Dai 3-2 3-2 3-1 Io gli sparo 3-1 Gli sparo Godo Godo Grazie a tutti Grazie a tutti 2-2 4-1 5-2 5-2 8-8 7-9 9-8 10-8 10-8